Ciao ragazzi, come state? Oggi facciamo dei nuovi stampi utilizzando la gomma siliconica RTV530 della Prochima Questa l'ho acquistata io tempo fa, infatti ho già fatto un video utilizzando questa gomma Questa non è quella liquida, ma bensì, vedete, quella che si mescola come il pongo se il componente A ha la stessa quantità circa del componente B e si fanno gli stampini, quelli famosi, diciamo, quelli rosa Allora, iniziamo Allora, gli stampi che voglio fare sono Vediamo se riesco a prenderlo Allora, questo bellissimo cuoricino con la sua chiave che poi andrà ad incastro Poi queste due adorabili zampette vedete, tutte sberlucicanti Questa cinepresa vecchio stile, diciamo Quello è il cinema E poi vediamo se riesco anche a fare perché comincia ad essere un po' scarsa di quella gomma siliconica Queste forbici Questo rotondo con la scritta love, tutto glitterato E poi mi piacerebbe provare a fare o questo pavone o questo gufo Adesso vediamo man mano che creo gli stampi vediamo quante cose riesco a fare Allora, quindi prendiamo il componente A Ecco qua Allora, questa è la pallina di componente A E prendiamo più o meno o comunque all'incirca la stessa quantità di componente B che è questo qua, bello rosa Allora, vediamo Sì, ok Allora, finché li lasciate separati non c'è problema Appena li iniziate ad amalgamare insieme quindi appunto a mescolare amalgamare appunto come volete una volta mescolati per bene avete poco tempo non è questione di secondi ma poco tempo per imprimere la forma che volete sullo stampo per questo si diciamo si diventa duro subito quindi se qualcuno ha fretta di fare stampi questo forse è il metodo migliore Allora 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 facciamo una pallina ecco qua ora la appiattisco fino a raggiungere la forma desiderata Allora io appunto voglio fare questo cuore ecco qui posso allora anche un po' stringerla e basta semplicemente premere cerco di premere in modo che venga poi fuori anche il rotondo poi per appendere diciamo proprio per creare o un portachiavi o una collana tiriamo su un po' i bordi e questo stampo è fatto se volete potete un attimo rifinirlo insomma valutate voi come più vi piace e questo è a posto intanto che lui si solidifica facciamo uno stampo più piccolo per la chiave ed ecco fatta anche la chiave ora continuo così facendo anche tutti gli altri stampi eccoci qua allora come vi avevo anticipato con questa gomma siliconica della Prochiman RTV 530 io l'ho pagata 26,40 euro è molto veloce fare degli stampi quindi se ne avete urgenza e la diciamo la gomma siliconica più istantanea vi faccio vedere un esempio guardate questo pezzo qua volevo provare a fare questo granchio ma mi sono resa conto che non era abbastanza ben definito e quindi non mi sarebbero avvenute tutte queste tescalanature piccoline quindi ho provato di nuovo a mescolare in velocità per fare le forbici ma ormai era già dura quindi peccato questo pezzo lo butterò via ma andiamo allora a scoprire gli altri stampi allora cerchiamo di staccarli dalla carta da corno allora alcuni che adesso vi mostrerò è fortuna che sulla carta da foro non dovrebbe attaccarsi niente ok allora iniziamo dal primo che era questo qua con il cuore e la chiave che vi avevo mostrato che vi avevo mostrato che l'abbiamo fatto insieme praticamente guardate è venuto perfetto non so se riuscite a intravedere anche la scritta lo view che sarebbe appunto questa vediamo la chiave perfetta forse la I non è venuta proprio 100% in rilievo però bisogna vedere poi con con la resina come verrà fuori il risultato questi due poi ho fatto la zampina vediamo ok guardate che carina con tutti i dettagli di questi svaroschini verrà secondo me stupenda questa ci ho impiegato un po' troppo tempo per farla vediamo com'è venuta wow guardate che bella non vedo l'ora di provarla infatti se voi notate la differenza tra gli stampi fatti subito vediamo ecco questo che ho fatto subito vedete è perfetto praticamente quasi senza nessuna crepa questo che ho aspettato un po' vedete è già un po' è tutto un po' crepato non è liscio poi abbiamo questa cinepresa super dettagliata anche questa bellissimo così ed ecco tanto per dire fatto appena cadere per fortuna che ho fatto lo stampo mi si è staccato un brillantino e vabbè poi lo attaccherò e poi ho provato a fare questo ciondolo vediamo com'è venuto no non ci credo forse sto sbagliando non lo so vediamo no fantastico guardate tutti i glitter adesso a sto punto non so se no non credo che siano i glitter che sono caduti non lo so guardate non vedo l'ora di provarlo sono super fomentata l'idea di provarlo speriamo che sia venuto bene purtroppo la L guardate è proprio stretta stretta magari quando lo farò cercherò di allargare un po' lo stampo per far entrare la resina se no proverò a rifarlo comunque veramente bello ecco questi stampi sono soddisfatta come vedete non sono riuscita a fare né il pavone nel gufo li farò con un altro video spero che questi stampi vi siano piaciuti non vedo l'ora di fare lo scopriamo le creazioni in resina con i nuovi stampi vi mando un grosso bacione a presto ciao ciao ciao